Il sì al nuovo servizio rifiuti in house che lunedì è stato formalizzato dal sindaco Lucio Greco e dall'assessore Cristian Malluzzo ha fatto ripartire buona parte delle procedure anche negli uffici delle impianti SRR. I tecnici della società che ha ottenuto l'affidamento in tutti i comuni dell'ambito potrebbero trasmettere il cronoprogramma richiesto al municipio già entro oggi. Il sindaco Lucio Greco ha sempre avuto molte perplessità sul servizio in house, intanto partito a Deglia, Butere e Mazzarino, ieri è arrivata inoltre la firma dell'amministrazione comunale di Riesi. Nonostante la scelta di affidarsi all'in house, l'avvocato Greco continua a ritenere che il servizio dovrà assicurare tutti i necessari standard qualitativi con la massima efficienza. L'intenzione è mettersi alle spalle quanto accaduto negli anni con Tecra. Greco spiega di aver dovuto necessariamente affidare il servizio di raccolta rifiuti nel regime di in house providing proprio alle impianti SRR. Il tentativo di arrivare ad una gara solo per il lotto locale non è stato accettato per motivi che Greco ritiene strettamente legati ad aspetti burocratici difficili da superare. Parla di dubbi e di preoccupazioni che comunque rimangono. Per questo si prevede di intensificare l'impegno e di adottare tutte le iniziative mirate a garantire un servizio quanto più aderente alle necessità e le esigenze del territorio, ribadisce il sindaco. Probabilmente nei prossimi giorni ci saranno i primi contatti tra Palazzo di Città e l'amministratore delle impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone. Il sindaco ha affidato l'interim del settore rifiuti in attesa di individuare un nuovo dirigente all'avvocato Mario Picone che coordina gli uffici degli affari legali. Lo stesso Greco inoltre non trascura l'aspetto occupazionale visto che impianti SRR dovrà assorbire più di 100 lavoratori. Da mesi i sindacati chiedono assunzione a tempo indeterminato che però allo Stato non sono praticabili vista la forma giuridica della stessa impianti. Secondo Greco il nuovo servizio non potrà intaccare in alcun modo i diritti dei lavoratori e dovrà garantire tutti gli standard di efficienza ed economicità. Per il servizio rifiuti si apre un nuovo capitolo con le attività affidate alla società pubblica della SRR 4. Greco già preannuncia che disporrà controlli piuttosto rigidi affinché si rispettino tutte le condizioni del contratto. Allo stesso tempo proprio ieri oltre alla nomina ad interim del dirigente Picone Greco ha provveduto alla nomina come dirigente supplente del settore ambiente dell'architetto Emanuele Tuccio.